Adesso delle articolazioni intermetacarpiche. Le articolazioni intermetacarpiche si stabiliscono tra le basi delle ossa metacarpali e sono delle artrodie, la cui capsula fibrosa lascia la cavità articolare aperta e comunicante con la cavità articolare dell'articolazione carpometacarpica, mentre distalmente è chiusa dal legamento metacarpale interosseo e a rinforzare l'articolazione abbiamo il legamento metacarpale palmare e quello metacarpale distale. In più distalmente a livello delle teste dei metacarpali esse non sono unite direttamente, non articolano direttamente, non sono in contatto, ma unite comunque dal legamento metacarpale trasverso e profondo, questo qui. I movimenti ovviamente essendo delle artrodie sono di scivolamento tra le basi dei metacarpali.